Cari amici, belle donne, buonasera a tutti, benvenuti in questa splendida festa di Valcomasso, stasera con noi e in storia del progetto, grazie, 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 voti il filetto e partiamo con il paludizio! E siamo in un danza, possiamo? Del mazzerino, magico papà, forza ballerini, vi spediamo un po' il freddo stasera. E con due coppie, siamo noi, siamo in un danza, grazie, grazie, grazie! Saludiamo tutti gli amici, siamo ritrovati stasera, Roberto, Eda, 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 Abbiamo un grande gisabolicista che abbiamo con noi stasera, il Fior Lisè! Primo gruppo, il Ringo, l'abbiamo fatto noi, eh, il Tegri! Quanti ricordi! Quanti ricordi! Biss sia! Quanti ricordi! Quanti ricordi! Quanti ricordi! Quanti ricordi? Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.